Daniele, allora il mercato in entrata, almeno quello in entrata, per il momento si chiude qui? Per il momento si chiude qui perché abbiamo gli esuberi da mandar via, al momento che manderemo via qualcuno, molto probabilmente prenderemo qualcuno. Qualcosa c'è per qualcuno, per qualcun altro no, dobbiamo cercare. Poi se Mengoni ha fatto sapere qualcosa alla Romania? Mengoni ancora non ha fatto sapere nulla dalla Romania, sta lì. Percentuali? Ma io dico percentuali non ne faccio perché poi dipende anche dalla volontà sempre dei giocatori, perché purtroppo se poi il giocatore non piace, non gli piace star lì, non è che gli si può puntare la pistola alla testa. Ci si augura che comunque, parlando di una squadra che fa l'Europa League, non abbia problemi a Mengoni a dire no. Il nodo Livi deve essere ancora sciolto, forse è il più difficile. Il nodo Livi deve essere ancora sciolto, in questo momento è il più difficile perché io parto da un presupposto, un giocatore da ringraziare per i due anni che ha fatto qui a Pescara, è un giocatore che non rientra nei piani tecnici, può capitare nel calcio e i calciatori fanno i calciatori e giustamente sono pagati per questo, in questo momento Olivi non rientra in questi piani, Olivi in questo momento qualche bizza la sta facendo, speriamo che si convinca. Senti, tornando all'organico, bisogna completare soltanto il reparto retrato, per quanto attiene invece al settore nevralgico, è vero ci sono sei giocatori, tutti di buona, anche ottima qualità, ma sono tutti destri. Sì, sono tutti destri, ma al di là che Cone può fare sia il destro che il sinistro, quindi di conseguenza anche questo... Però è un destro naturale. Un destro naturale, Cascione può fare il sinistro tranquillamente, non è un problema, Marco Verratti, idem, insomma, in mezzo secondo me c'è abbastanza scelta per fare un campionato, sono sei giocatori che si giocheranno tre posti ogni domenica, poi dipende da loro e dall'allenatore. Senti, se Sanzovini per il reparto offensivo non dovesse adattarsi al ruolo di esterno, non voglio fare la Cassandra, però insomma ci sta questa eventualità. Sarebbero tre giocatori per un ruolo, quello di centravanti. Ma io dico che dall'espressione di quest'estate e della disamina che abbiamo fatto io il mister, la disamina era che Sanzovini era per lui considerato un esterno, tant'è vero che noi abbiamo preso immobile e ci abbiamo maniero, però sono convinto che è predisposto a fare questo ruolo. Senti, per il ruolo, per l'elemento mancante nel reparto retrato, non c'è a tuo avviso bisogno di esperienza soprattutto? Ma non è una questione di esperienza, noi dobbiamo cambiare prima di tutto cultura e mentalità, che secondo me è una delle basi più importanti, perché se il giovane è bravo va fatto giocare. Ecco, dal punto di vista tecnico, questo organico, al di là del modo di intendere il calcio, da parte di Zdenek Zeman, diciamo così che sembra essere congeniale a diversi sistemi di gioco. Siona? Ma sicuramente, sono tutti giocatori abbastanza eclettici anche. Lo stesso Cone oggi ha confermato anche il fatto di poter giocare terzino destro, comunque sia un'alternativa anche importante, perché sappiamo che è un campionato lungo, 42 partite sono tante, è una rosa giusta.